Di solito le raccolte di storielle brevi non sono molto ficcanti, ma in questo caso... Beh sì, l'ho già detto diverse volte, a me piacciono le serie lunghe, che sono fatte di albi autoconclusivi o di storie che si susseguono, però insomma mi piace tanto più sia spazio, modo, con tanti albi, tante pagine per approfondire le questioni, empatizzare con i personaggi e quant'altro. Quindi di solito le storielle brevi così lanciate là giusto per intrattenimento o per dare qualche squarcio maggiore in un universo mi eccitano un po' meno, come in questo caso se le leggo, però mi eccitano un po' meno. In questo caso, in questo volume, abbiamo tre storielle da Mos Eisley, quindi la cantina famosa dove si incontrano tanti personaggi, tra loro molto diversi. Adesso andiamo a vedere perché, secondo me, un pochettino meritano. Nella prima storiella abbiamo un personaggio che appunto arriva alla cantina e racconta quello che gli è accaduto, come ha fatto a raggranellare una grossa somma di denaro. E qui è il setting molto affascinante, molto particolare perché questo personaggio racconterà come alcuni soggetti dell'impero, lui mercenario, quindi un po' per uno, un po' per l'altro, lavoro per chi gli dà lavoro, diciamo gli hanno dato questo lavoro in cui deve semplicemente stare al faro, mantenere la luce accesa in tutto il periodo in cui dovrà rimanere lì. Non gli sembra questa mansione particolarmente difficile, però ovviamente qualcosa dietro ci sarà. E infatti, ecco che Pai arrivano come queste ragazze, sorta di sirene, eccetera, e lui però gli ha detto, tu devi rimanere all'interno e non uscire mai. Lui, nonostante tutto, quando vede queste ragazze, alla fine cede e le vuole fare entrare. In realtà, purtroppo scoprirà successivamente, perché questi qua cercano di attirarlo da qualche altra parte, che queste ragazze nascondono in realtà un mistero. E' un mistero che, presto detto, infatti questa è una sorta di isola dove vengono poi fatti arrivare determinati carcerati. Come vedete, le ragazze, insomma, si trasformano in qualche modo e fanno una brutta fine. E lui dovrà rimanere lì e resistere al richiamo di queste donne, che utilizzeranno probabilmente, evidentemente, qualche stratagemma in più per riuscire in qualche modo ad attrarlo o ad entrare, nel caso leggetele, per scoprire come andrà a finire. Comunque questo setting di questo faro in questa spiaggia abbandonata, una cosa molto particolare anche per Star Wars stessa, però tutto sommato trovato intrigante. Anche la seconda parte, questa seconda storia intrigante, dove parla di questo anziano che si confronta con un altro extraterrestre, diciamo così, un altro personaggio, l'universo di Star Wars, e gli dice che cosa ti è successo, di quale di là, e sostanzialmente gli dice che lui era in viaggio con questa nave, avrebbe dovuto metterci un tot di tempo per raggiungere la sua destinazione, in questo caso non mi sembra per lavoro, se non mi ricordo male, ma è comunque, sarebbe stato un lasso di tempo, sì, ci avrebbe messo un po' perché è percorso molto lungo, settimane, mesi forse, però un lavoro come un altro che avrebbe avuto la sua paglia. Purtroppo, che cosa succede? Anche in questo caso, durante il tragitto viene, con questa tempesta di meteoriti, sbragata la sua nave, e lui comunque non è che esplode, continua a sopravvivere, però che succede? Gli sbraga tutto il sistema di propulsione, e lui praticamente per raggiungere probabilmente la sua destinazione ci metterà a 10 parsecs, e quindi dice saranno circa 60 anni. E quindi abbiamo questa disperazione ovviamente di questo incipito di trama, in cui una persona che sa che anche appunto a distanza dalla sua amata ci metterà a 60 anni e vivrà sostanzialmente tutta la sua vita da solo in questa situazione. Poi scoprirà durante il suo continuo peregrinare a metà fissa questo android di supporto che era contenuto dentro l'astronave, con cui via via empatizzerà a tal punto che gli sembrerà effettivamente che questo robot, questo android, sia capace di appunto avere una propria personalità. vero o non vero, ci sarà un finale, che più di tanto non vi voglio spoilerare, che desta anche in questo caso un certo fascino, diciamo così, anche questo apprezzabile. Infine invece, l'ultima parla praticamente di quest'altro anziano che racconta a questo giovane che si stava godendo il suo drink in una panchina, e gli dice guarda, se mi dai un po' del tuo ti faccio assaggiare il sapore di questo uovo, di questa specie di Grump, un essere abbastanza tipo un dinosaurone, un dragone, una roba così, gigantesco. E lui riesce a scorcare sto goccio soprattutto grazie al fatto che gli racconterà, a quanto pare, come si è riuscito a sopravvivere, a sgraffignare un uovo di sto essere e uscirne vivo per poter appunto tornare a casa, raccontarlo e avere questo coso di uovo da poter dare. Poi in realtà il sapore del succo di uovo di questa cosa non sarà questa meraviglia e rimarrà ovviamente fregato. Questa è più una storiella, tra l'altro anche ecco come avviene diciamo più che lo scontro, il confronto tra l'uomo e questo essere, ci mette un po' anche qui del mezzo paranormale, cose un po' strane e ho goduto meno questa terza storia, anche se effettivamente anche questa è particolare. Le storie quindi le ho trovate piuttosto appaganti e nel complesso, pur essendo appunto un arbo composto da mie storie, direi che comunque il suo set sarò saputo guadagnare con queste storielle intriganti. Sul disegno invece purtroppo siamo ancora degli standard anni 90 non esaltanti delle grafiche della Marvel e qui purtroppo anche se alcune tavole sono più indovinate, la media per me non raggiunge la sufficienza, quindi 5,5 per questo Brett Bravins che non mi ha del tutto convinto. Ma arrivadisco magari neanche troppa, la colpa a lui è attribuibile tanto per i disegni, sì non esaltanti ma nemmeno così malaccio, quanto appunto per la colorazione delle grafiche datate che io purtroppo soffro un po', soprattutto quando non c'è una certa classicità e un certo stile più classico generale. Nel complesso quindi è un albetto che io consiglio all'appassionati di Star Wars che appunto oltre alle storie principali vogliono recuperare anche tutte le altre storielle alternative e questo come albo, come storielle si fa particolarmente apprezzare. Rintracciato al giusto costo oppure se come me avete libero accesso a tutti gli albi mai pubblicati dalla Marvel potete recuperare questo che comunque vale la pena essere letto. Anche per la recensione di questo piccolo albo è tutto, se anche voi a vostra volta lo avete letto fatemi sapere che cosa ne pensate e se avete trovato abbastanza creativoli come me le storie. Noi ci rivediamo al prossimo video, ciao!